Oh Chiara Ferragni, un altro party, questa volta però a tema rodeo, beh Chiara Ferragni sta benissimo qui, a parte il setting favoloso, veramente tutto a tema western, è il compleanno di Andrea Adamo che è una persona che lavora nel fashion, è pieno di VIP, ho intrevisto anche di Letta Leotta e tutti quanti vestiti in tema, guardate i cappellacci, tra l'altro a me piacciono tanto i cappelli perché ti coprono sempre i capelli sporchi, quindi sono stata un'amante di questo video. Questo è il festeggiato ma voi guardate la finesse di questo, di questo toro fatto tutto in pellame così, davvero beata Chiara Ferragni. Passiamo a casa nostra invece. Ciao More Grigio! Gabri! Come! E chiudiamo così, ci vediamo al prossimo aggiornamento, ciao!